Piazza Muzzi nel cuore della Movida pescarese con l'assessore al turismo Alfredo Cremonese. Pescara Sicura, questo progetto lungimirante, teso alla sensibilizzazione dei giovani all'uso consapevole dell'alcol. Una bella iniziativa, assessore? Un'iniziativa direi davvero bella perché è rivolta ai nostri giovani e soprattutto è volta a sensibilizzare un uso chiaramente consapevole delle bevande alcoliche. Chiaramente sappiamo tutti i danni che provano le bevande alcoliche, non solo sulla salute ma anche i danni indiretti. Pensiamo ai tanti incidenti che purtroppo funestano l'intero territorio italiano. Quindi ai nostri giovani dico sempre divertitevi perché il divertimento è la base della vita ma fatemelo responsabilmente. Bisogna bere ma bisogna bere con cautela, bisogna bere rendendosi conto di quello che si fa soprattutto quando ci si mette alla guida perché spesso e volentieri tante stragi del sabato sera potrebbero essere evitate. Bisogna bere, bisogna bere consapevolmente come dicevamo e soprattutto colui che fa uso di sostanze alcoliche non deve mettersi mai alla guida per nessun motivo. Quindi è anche giusto organizzarsi, organizzarsi per gruppi oppure in alcuni casi prendere i mezzi perché ci sono sia i taxi oppure ci sono anche altri mezzi da prendere. La cosa più importante è che chi ha fatto uso di sostanze alcoliche non deve mai mettersi alla guida di nessun mezzo per non provocare danni a se stesso ma anche agli altri. Assessore Cremonese, ma lei se l'hai mai chiesto perché i giovani soprattutto negli ultimi tempi continuano a bere così tanto? È una questione di moda, è una questione magari di passare il tempo, perché? Ma secondo me è un fenomeno che andrebbe approfondito e sicuramente lo dovrebbe fare chi ha più chiaramente conoscenze di me in materia. Io credo che i giovani di oggi vivano un forte disagio che è dovuto sia al fatto che diciamo c'è carenza di lavoro, c'è stato un periodo davvero importante con il covid che ha limitato in maniera importante la vita dei nostri ragazzi. Non voglio mettere scusanti, ma penso che ci siano delle motivazioni alla base anche culturali e legate al momento storico che stiamo vivendo. È fondamentale l'operazione di moral suation, quello che oggi state facendo, perché io credo che soltanto attraverso queste operazioni davvero possiamo sensibilizzare i nostri giovani.